Benvenuti a Notizie di Tendenza. Mettete mi piace, iscrivetevi e guardate il video fino alla fine. Pino Insegno, conduttore televisivo italiano, nega la frase riguardante Annette Stevens, affermando di non dover chiedere scusa e di averle detto di non prendersela. Insegno cerca di porre fine alla polemica che ha coinvolto i suoi commenti assicurando che il suo rapporto con Stevens è intatto. In un'intervista, aveva precedentemente escluso la modella dal suo nuovo programma, Mercante in Fiera, su Rai, utilizzando una frase che ha irritato Stevens. Aveva fatto riferimento alla sua età, cosa che ha infastidito la showgirl. Tuttavia, Insegno sostiene di essere stato frainteso e chiarisce di non aver mai fatto alcun riferimento alla sua età. Ha contattato Stevens, le ha inviato un messaggio vocale e le ha detto di non prendersela, ringraziandola per il lavoro svolto. Insiste sul fatto che lei è e rimane un'amica e nega di aver mai pronunciato la frase riportata. Insegno si chiede se sarebbe offensivo anche se avesse detto che è invecchiata, aggiungendo che anche lui è invecchiato.